L'illuminazione del patrimonio storico e architettonico di Ferrara, curata da Era Luce, società del gruppo Era, fa scuola a livello internazionale. In occasione della giornata mondiale della luce, giovedì sera, una delegazione di esperti del settore restauro, una cinquantina di persone, tra professionisti e referenti istituzionali provenienti da Europa, Asia e Stati Uniti, ha partecipato al tour notturno alla scoperta dei monumenti più importanti della città nell'ambito della Restoration Week. L'appuntamento annuale di promozione del settore restauro è approdato nella città estense che ha ospitato il Salone del Restauro. Un'occasione per mostrare al gruppo di esperti provenienti dall'estero le soluzioni luminotecniche all'avanguardia, studiate e realizzate da Era Luce per valorizzare i monumenti di una città patrimonio unesco. La delegazione si è potuta soffermare su innovativi giochi di luce e ombre tra via Capo delle Volte, via Ragno, San Romano, Carlo Mair fino al Castello Estense dove i partecipanti hanno potuto ammirare gli effetti di luce che valorizzano il monumento simbolo della città. Come ha detto Tiziano Speranza, referente di ingegneria e innovazione di Era Luce, per ogni monumento sono state studiate atmosfere personalizzate che migliorano la vivibilità degli spazi e allo stesso tempo, è stato detto, sono in grado di valorizzare gli elementi architettonici di pregio mantenendo sempre alta l'attenzione al risparmio energetico.